Bentornati amici del gameplay su Game Oversize, sono 3.90, siamo su Monster Hunter World, siamo pronti ad andare a accettare l'incarico potere rosa, quindi Langeanat rosa penso, per forza. Allora, ho deciso di fare subito questa invece di fare le altre secondarie, così, perché mi ispirava di più, volevo vedere cosa sbloccava, cosa dava, eccetera, sarà difficile, credo, però ce la possiamo fare, perché di facile, in teoria, il più facile ci è rimasto questo, perché tanto questi qua, forse tranne lui, stanno sullo stesso livello, a fine Radyan, a fine Langeanat sta là. Andiamo ad accettare, andiamo da soli, mi sono già preparato, ho già mangiato, ho già fatto tutto, potrei essere un buono pasto, da dire la verità, per cercare di raddoppiare le nostre cose che abbiamo, eh. Però per adesso no, accettiamola normalmente, poi in caso, in futuro si, si potranno usare i buoni, quando ancora non so che chi armatura fare. Per adesso ho messo i gambari di Pukei Pukei Beta, e ho scoperto che le altre armature, queste qua, Pukei Pukei, queste altre qua, Alfa e Beta, si possono potenziare di un po' di livelli, mentre quella del Magdaross non si può potenziare, forse perché comunque è abbastanza facile da fare, ecco. Purtroppo adesso ancora non mi ricarica la missione per prendere anche gli schienieri, però intanto, quello di Pukei Pukei, c'ha 40 difesa, la difesa è alta, buona, ci ho messo, incastronato una perla, e va bene così per adesso. Va benissimo, insomma. Adesso partiamo. Non sarà facile, ragazzi. Se seguite i miei video vi ricordate che... Che Langeanoth è stato sempre... Igor, non lo chiamiamo, è stato sempre il... È stato sempre difficile per noi da affrontare, quindi... C'ho un po' di timore. Occhi aperti, eh, apertissimi, ce l'abbiamo, tranquilla. Già scoperto Langeanoth, proprio così, eh, a frighi. Minchia, prepariamoci ad affrontarlo tutto, allora. Mega serie armatura. Non so quanto dura se dovrebbe tutta la partita, comunque noi ce lo prendiamo, ok. Mega nutrienti, vai. Perfetto. E... Relazioni ce la date, sì, ecco. Poi, creazioni. Per forza. Riguaggiamo questo. E andiamo ad affrontarlo. Quindi Langeanoth è comparsa alle guiglie selvagge. Tanto per cambiare, ormai si sono... I mostri hanno totalmente cambiato habitat. Anche perché non l'abbiamo mai incontrato da queste parti, eh. E anche, tra virgolette, è una cosa nuova per noi. Abbastanza nuova. Sta nella foresta, comunque. L'epronto è un po' fatta a cavolo, ma non lo so se... Perché stanno indiremo dalla parte opposta, ma... Però... Dovremmo aver raggiunto già, sta qui dietro. Ma quanto è rosa, in teoria? È lui. Ma mi sta laggando, perché non mi ha fatto l'attacco subito. Ma qua laggare, sto giocando solo, in teoria. Perché dovrebbe laggare. Il mio caro... Angianoth Igor Rosa. Allora, se riusciamo subito a sfruttare la carica. No, qua non ci sono riusciti. Ora sì. Perfetto. Il veleno. Non ci va di essere avvelenati. Non ci va, facciamo camminare verso di qua. Tanto lì sta camminando. Mazza quanta torta ha il nostro micetto. Vieni qua, Angianoth, però. Te cammini in mezzo al veleno. Per me, finché cammini in mezzo al veleno e ti avveleni, a noi non ci cambia proprio... nulla. Guarda qua, questo... Mi stavo a scordare il suo sgambetto del cazzo. Ma devo... Devo desistere, ragazzi. Devo desistere. Mazza che zona piena di veleni qua. starà perennemente. Eh... Qua mi sono proprio fregato solo, eh. No, l'ho lisciato. Però ho fregato l'arma. Adesso c'ha... Adesso c'ha il danno elementare. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, mio bel... Mio bel musetto rosa. Anche se con le prostioni di colore del mio schermo non lo vedo molto rosa, eh, però... Ma perché ho fatto questa sprecando un colpo? Eh, però mi ha fatto pure il roto rato di tutto. Cioè, non solo non ho fatto la mossa finale che dovevo fare. Allora, proprio... Non manco l'ho preso. Non manco l'ho preso, un torino. Ma poi devo... Devo già... Dico, sarà la mia arma. Eh... Lo stantetto. Perché qua, 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 qua Mastro rischia. Qua Mastro rischia veramente, aspetta. Andiamo a due del verso, ma non usiamo le posizioni. Ok. Allora, vieni qua. Mi stai già. No, beh, guardate quel carcetto non fa, mio. Vieni, stai proprio sul cazzo con sto carcetto. La connessione si è interrotta. E vabbè, non fa niente. Infatti c'era qualche problema. Eh, ma non è più carica l'arma. E vabbè, fai... Oh, che cazzo è successo? Chi ci ha paralizzato, ragazzi? Chi ci ha paralizzato? Come ci siamo paralizzati? Sono stati i fregnetti quelli rossi. Per tutto il rispetto, per me sono stati loro. Tutto il rispetto per l'anjanotte, però. Cioè, non venite a rompere il cazzo a noi. Caricato, dalle. Questo è caricato. Se ne dovrebbe andare, eh. Se ne dovrebbe andare adesso. No, ne va anche per un cazzo. Volevo continuare a combattere. No, se ne sta andando, se ne sta andando, se ne sta andando, se ne sta andando. Meglio per noi. Per me l'abbiamo apporciata bene. Ma con i bastati togono le enormità togono. Quindi, ragazzi, non sapendo né leggere né scrivere, ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo perché mi stanno sul cazzo. Però io qua non posso andarne. Qualcosa di più raro? No. Quelli i bruci steveni che ci danno quell'altro. Stai, 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 stai già qua, stai, eh. Vedo l'effetto del... del vestito, eh. No, volevo caricare, fermo, volevo caricare, ma non l'ho fatto. Aspetta che cada. In teoria. Oh, con sti carcetti quanto mi sta antipatico. Mi sta proprio... Via. No, sono solo danni elementari, ciccio. Mi cagazzi, eh. L'attacco mirale non l'ho fatto. Oh, l'ho preso solo con la scarica. Con la scarica l'ho preso. Il primo per cazzo che te l'ho proprio evitato. D'addio te l'ho evitato. Ah. Madonna quanto corri, oh. Quello è l'attacco che bisogna evitare sempre con lui. Sempre, ragazzi. Comunque qualcosa accadda... Dobbiamo sempre riuscire a evitare la sua carica. Eh, daccio. Continuo. Se a me l'ha venato. Quanto è cattivo quando fa sta cosa. Se non lo diseguaggio... Si, di un cazzo di... Vabbè. Desequipaggio sto coso, non si ricarica. Non si va affatto, già. Si. Questo muso dovrebbe ricaricare. Almeno quello. Una bella battaglia. Una bella battaglia, raga. Lo posso dire. Quale parte sei andato, ciccio? Sta qua, sta qua. Attenzione. Ottimo. Ah, sono cristalli terra. Ah, madonna. Quanto mi ha torto, raga. Quanto mi ha torto con quell'attacchiuccio così, eh. Porco cane, raga. Mi ha macchiappato male. Si. Una bella battaglia. Mi ha torto. Quanto mi ha torto. Che perary. Quanto mi ha torto. Quanto mi ha torto, che perary. ma porco di se no ma come faccio a lisciarlo così oh mannaggia fermo fermo io posso starmi a così sono proprio storto però lo posso tagliare la coda niente sono proprio storto oh sta fermo anche se stai così fermo a noi ci va più che bene ci va eh attenzione chi è barrot eh tre mostri io mi defilo io mi defilo ragazzi io mi defilo male io mi defilo male eh io sto con l'angenote se ne va tranquillo vattene io qua mi defilo proprio male ce l'andiamo qua intanto cicotiamo l'arma cicotiamo l'arma tranquillamente a riparo da occhi indiscredi mica tanto riparo da occhi indiscredi stava proprio qua stava accanto a noi altro che occhi indiscredi ah ci sta lui vieni qua bello come ho fatto a prendermi questa madre vuoi spiegare questa madre vuoi spiegare madre cazzo a paralizzare tutti quanti eh non volevo non l'avevo neanche vista per la verità per il momento dovrei buttare un pochino di meno grazie gatto di merda ragazzi c'è un tempo per caricare l'arma per caricare pure lo scudo facciamo così l'attacca e vaffanculo basta la spada caricata eh dai l'avevi dato ma l'ho fatto apposta l'ha scivolata sotto la cosa sta zoppicando o cammina sto autoclidio ho sempre sto dubbio con sto mostro se effettivamente sta zoppicandoli però intanto io mi codo guarda ragazzi che ci frega facciamolo facciamolo lo facciamo e lo ammazziamo ormai se sta zoppicando adesso lo ammazziamo e io perchè non l'ho prese queste? dove stavano? dove stavano? prendiamo ragazzi se li chiamo altre cose oh possiamo scoprire che è debole senza che andiamo a leggere su la wiki comunque chi lo vuole giocare senza wiki tipo me può andare lì almeno io ho giocato la prima parte senza wiki adesso sono a controllarla solo per per materiale che mi serviva e per la debolezza di chi non mi ricordo ma in live è successo c'è un semi demoniaco? andiamo ragazzi ci servono per fare i sieri per aumentare l'attacca alla difesa c'era una zona mi sembra proprio in sta mappa piena di piena proprio di semi difesa armatura allora come cazzo si chiamano dormi bambino dormi picciotte che voglio fare lo sghicio l'arma di umano fallo correre fallo correre probabilmente e para è un colpo cazzo tra 90 via via però via ma che che è? no l'avevo caricata si vede che l'ho lasciato male il puzzante no ma non mi riesce a caricarla non fa niente ragazzi di un'altra volta questa è l'unica che non mi riesce ancora ok non mi riesce ancora in modo abbastanza veloce ma proprio qua dove arriva certo che sto mostro ragazzi rompe veramente il cazzo ma ma roba assurda rompe non è normale come mostro c'era rompe proprio veramente il cazzo ma forco dì guarda che bordello che ha fatto è esploso il mondo è esploso è esploso il mondo qua non ci stanno a far muovere noi eh cioè ecco ci ha dato una botta a lui ce n'è andato per fortuna sta avverenato guarda se riusciamo a buttarlo solo per terra no ok eh no mannaggia oh ma guarda sti infami eh ma guarda sti infami eh ma la madonna non mi carica non mi carica questa ma per te il sovravvento lui eh riuscite a piazza il sovravvento smooth di me mi fuggo male mi fuggo male qua qua so capitato ancora peggio invece c'è una disputa che vince quello nuovo e lo mi dò mai il nome fa veri 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 power stava zoppicando ma poi non ha più zoppicato tacci sua non dobbiamo demordere c'ho visto? aspetta che so come fai salti del dio infatti lo sapevo me l'ha aspettato oh non ci siamo quotati bella cazzata qua ragazzi ho fatto ecco comincio ad attaccarlo così anche senza caricare cose difficile un po' di più vabbè orcottisse che culo pure il lisciato qua la discesina ci ha ci ha sfavorito a un certo punto ma ci ha ci ha graziato dopo bella cotina dell'angenate dai dobbiamo prendere proprio le zanne dove riprendere eh dai buono un po' un attimo su eh cristo dio ma sto ma sto rischiare ma sto rischiare in un certo modo dammi quella cosa me la sto rischiare proprio in un modo brutto eh oh porco disse quanto me la sto rischiare da mo ma porco disse porco spara diverso a fuoco lo spara ragazzi ho visto lo spara diverso io ho visto lo spara diverso io ho visto proprio lo spara diverso è vero lo spara diverso grande 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 sei alzato si è messo meglio di prima ho caricato l'arma vediamo il lato positivo un barot partner che devo me la devo risciare ho visto lì la cosa ma è pericolosa dovevo passare sopra e sotto non mi dicono niente sopra cristo sopra spagato via spagato via ci sto del tempo te curasse non va bene ho dovuto usare il mantellino per salvare la vita se no ce l'aveva ho trovato gli in posto come si chiamano i gatorstone come si chiamano adesso ho chiuso proprio dovete dovete dare armatura sua quella nuova ho dovuto vedere che abilità c'è che le statistiche c'ha sta male sta male per me gli manca poco poco di vita manca veramente poco di vita che manca infatti lo sapevo l'ero immaginato l'ero immaginato guarda non lo so perché non lo so perché ho detto a questi che mancava poco di vita mi manca scusa ma questo non ci rompono le palle nessuno possiamo parlare in modo tranquillo ci siamo scordati pure la coda e in modo cazzo sta la coda non lo so però non fa niente dai beh è stata la prima volta che abbiamo battuto dai non me lo ricordo proprio non me lo ricordo proprio vado a caso qua ma non me lo ricordo forse qui no però c'era il materiale cazzo di qua forse da st'altra parte proprio verso sta via qui eccola lì infatti che culo forse ce la facciamo ottimo non mi attaccare non mi attaccare che t'ammazzo troppo un pasto esorcido di Vicente è scemo di morire mo se non ci morire che è ma che si è buggato in quel modo oribile il colto sta un ballerino oh diamo un po' ammazza che schifo di ricompense però due diamanti due gioielli la scaglia più pelle più osso di mostro affilato ottimo scaglia più speriamo che trova due ottimissime un filato fata pietra misteriosa fata pietra misteriosa osso di mostro affilato e scaglia più un sacco di scaglie più buona anche questo racconto di livello basso però vediamo un po' distenza scoppio contro i mostri scoppio contro quel mostro che dobbiamo affrontare quello che ci viene sempre addosso dell'abitante inazione che non mi ricordo cos'è dovremmo andarlo a vedere dovremmo andarlo a vedere dovremmo andarlo a vedere cos'è non me lo ricordo un po' di soldi che si rifanno ragazzi dopo aver fatto quella cazzo di armatura stiamo proprio senza una lira la mensa è stata migliorata ottimo è vero che ce l'hanno detto ce l'hanno detto sta cosa che la mensa veniva migliorata dopo aver battuto l'Angeloth potere rosa alcune armi di alto grado possiedono un elemento nascosto l'elemento può essere attivato con l'abilità rileva munizioni più vedo che sei ancora in piedi si hai svolto un ottimo lavoro con l'Angeloth qui sono tutti entusiasti di te grazie infinite noi dobbiamo solo decifrare le emissioni di infrazioni che hai scoperto e non temere ci riusciremo e tu sarai la prima persona a conoscere i soldati dello studio si intende mi raccomando nel frattempo continua a raccogliere il maggior numero possibile di prove le nostre ricerche dipendono da te beh cosa c'è dobbiamo raccogliere molte più informazioni su quel mostro misterioso adesso sono tornato adesso hanno raggiunto mostri che credo che no ai capi di no c'è sta niente l'abbiamo fatto non so se c'è qualcuno di nuovo qui c'è l'Angeloth dove però nella foresta mi sembra si foresta antica se vi stessi quindi ragazzi no dopo andiamo a fare forza questo forza questo che forse ci sblocca l'arma d'acqua di livello di rarità 5 almeno quello eh andiamo un po' a vedere invece l'armatura di Anjanoth di Igor Rosa Rosa Igor Vester Rosa forza forza aromatura eh beh eh beh ragazzi eh beh ragazzi eh beh eh beh se ve lo dico ragazzi qua va questo va non va farmato ma di più anche se l'ermo cambia perché è aperto stavolta l'ermo cambia l'ermo abbiamo differenze tra quel colore che è un po' più chiara la pellicciotta sui bracci ci abbiamo poi credo sia più lunga come quella che portiamo noi adesso sì molto più lunga molto figa beh 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 una bellissima armatura tranne i stivaloni mamma mia ragazzi no i stivaloni no non si possono vedere proprio da cosacco no sui stivaloni pellicciosi non ci siamo proprio però sul resto sì sul resto sì ragazzi è una bella armatura 44 difesa fuoco certo difese elementari solo fuoco il resto è merda però 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 è una bella armatura che quella scorsa ci siamo portati avanti per tanto tempo eh lo dobbiamo dire cose come stanno le dobbiamo dire e migliorarmi ma non credo non credo proprio sì questa qui no questa però è che è Ryan perché mi è comparsa adesso questa così dal nulla non so perché non so perché quella di fuoco dell'angelo tu sai che no non è quasi niente ci sblocca nulla questa è quella Teradaross non ci sblocca nulla ragazzi qui abbiamo qualche rarità 5 da fare guardate ragazzi abbiamo questo scoppio di rarità 5 guardate qua purtroppo per me è quel mostro lì pure anche quella duono è è il toby nuovo questa però per esempio possiamo far farmando l'odegaron possiamo fare la lera 5 dell'odegaron possiamo far questo no però ci arriviamo ci arriviamo perché abbiamo anche un'altra gemma ci potremmo arrivare a farla però che finisce qua questa non mi ispira parecchio questa di drago mamma mia no questa è l'ama caricata nel acciaio di drago si questa si sa che si compra o si forgia direttamente non parte da nessuna proprio questa raga la vedo difficile la vedo da fare la vedo difficile non è che abbiamo tante scelte su quella di ghiaccio pure no quella di ghiaccio ragazzi è la più vicina quello di lo shamos più in teoria non ci vuole tanto questa non ci vuole per niente tanto pensa un po la ghiaccio vorrebbe essere la nostra lama più più avanzata vabbè raga la pericola è bella raga bella non ne posso vedere queste armi ma io forse la faccio raga io vi dico che questa la voglio forse sapete che sarebbe la nostra prima spada caricata di fuoco mi piace raga mi piace parecchio mi piace mi piace parecchio niente noi ci risultiamo qui grazie a tutti per la visione il video è durato abbastanza vi saluto qua e ci vediamo nei prossimi video e nelle live alla prossima ciao ciao ragazzi